Lunedì abbiamo uno dei primi passaggi in uno dei cinque temi che avevamo lanciato durante l'assemblea del 16 novembre e questo è il tema legato allo sviluppo della larga banda nel territorio. È un elemento fondamentale nello sviluppo industriale prossimo venturo e noi purtroppo per una serie di motivi scontiamo un ritardo abbastanza significativo in termini di implementazione delle infrastrutture fisiche. In parallelo diciamo che abbiamo ancora molto da fare per quanto riguarda invece le applicazioni, quindi la capacità di creare su una rete telematica prodotti, servizi e quindi aziende. Noi adesso oggi abbiamo il vicepresidente di Confindustria che ha seguito tutto il progetto relativa alla larga banda per Confindustria che è anche casualmente presidente di Telecom, quindi ha come si dice una conoscenza del tema abbastanza approfondita e abbiamo come chiusura del convegno l'assessore Riccardi che ci racconterà un po' i tempi e i modi con i quali appunto la nostra regione si metterà un po' al passo con le regioni più evolute a livello mondiale. Ci aspettiamo soprattutto di accendere i riflettori su questo tema che non è un tema soltanto di scavo per mettere la fibra ottica ma è soprattutto un nuovo modello industriale che ha la possibilità di generare occupazione, ha la possibilità di generare soprattutto competenze e attività che possono competere a livello uno a uno con qualsiasi altro paese mondiale senza preoccuparsi di quelli che oggi sono costi di mano d'opera o quant'altro. E' quindi una base per un modello industriale prossimo a venturo, non possiamo starci fuori e soprattutto non possiamo avere un gap tecnologico su paesi emergenti e paesi che possono diventare, che sono già diventati in molte aree, i nostri principali competitor. Questo convegno serve ad accendere i riflettori sul tema, parleremo di infrastrutture ma soprattutto inizieremo un ciclo di attività proprio formative nel campo dell'utilizzo della larga banda, cercando di raccontare, di portare a Pordenone quelle che sono state e quelle che sono oggi le eccellenze in campo distributivo di informazioni, quindi dalla diffusione della progettazione con CAD evoluti in contemporanea su più reti, alle trasmissioni digitali di video piuttosto che di informazioni, fino ad avere la possibilità di avere una realtà virtuale sempre connessa ed in grado quindi di gestire in maniera diffusa dei progetti complessi e soprattutto delle tecnologie complesse. Questo progetto è stato lanciato a novembre, inizia ufficialmente oggi e avrà un'attività costante per tutto il prossimo biennio.